Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ E oggi siamo su Unfair Sonic Ragazzi dopo Unfair Mario non potevo, veramente non potevo crederci che avessero fatto anche Unfair Sonic E' una cosa splendida Siccome ragazzi so già che ci saranno 2 miliardi di trappole, vado piano prima Lo sapevo Conoscendo Unfair Mario ragazzi la piattaforma dopo è una trappola quindi non ci va Come cazzo è rimasto in milico? Quando si dice che un pixel ti salva il culo Questa è da momento epico sicuro Lurido pezzo di stronzo Ragazzi lo sapevo tanto sta cosa, prima o poi Lo sapevo, io lo sa, io le so Io non so un cazzo Ragazzi io devo pre... Allora, no, no, no Allora siamo all'inizio, siamo morti 5 volte all'inizio Succo! Scusatemi era lo sfogo momentaneo, ce la possiamo fare ragazzi Ce la posso fare Mica stavo finendo tutto ragazzi Non ci riuscirò mai più di sicura Ok, ok, ok Una sega Non ce la posso fare Allora, no, ma perché io sono deficiente? Ma ragazzi devo cercare diciamo di essere un po' veggente perché Cioè praticamente l'età... Che cosa cazzo sto facendo? Come ho fatto ad arrivare fin qui? Non lo so neanch'io Ragazzi non importa Non lo so Fermi! Ok, va bene così Non sono morto è un traguardo allucinante Quindi va bene così Qua c'è una trappola quindi non ci vado Perfetto Perché cazzo sono tornato indietro? Madonna la coordinazione Madonna che pro Madonna che pro Sì! Sì! Madonna la coordinazione Guardalo Guardalo! Ma vaffanculo Lo sape... Lo sape... Minchia lo sapevo Ragazzi un mil... Ma va... Guardati Devo andare avanti? Sì! No Ragazzi Quella era la fine Quella puttana Di quella puttana Non ci arriverò mai Sì! 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 Ragazzi non so come... Non chiedetemi come cazzo ho fatto Non lo so Livello 2 Livello... Non ci posso 25 morti È un miracolo Ve lo dico è un miracolo Ragazzi non ci posso cre... Perfetto Come non detto Vediamo di parte niente Non ce la farò mai... Niente 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 Niente! Cioè sono morto Sono morto Già 5 volte Nell'arco di neanche 4 secondi Fantastico E la cosa... Allora fatemi riuscire Ad andare avanti di qui Sì Sì Non so ufficialmente Cosa cazzo ho fatto Ma va bene così Cioè veramente devo saltare Ho già trovato un passaggio segreto Cioè devo... No non lo troverò mai Cioè sono riuscito la prima volta E non ci riuscirò mai più C'era un coso segreto Tipo qui Sì 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 un cazzo però Madonna Madonna Vaffanculo Il cocco Il cocco Perfetto Allora io qua sopra Non so se saltarci o no Perché ho paura di prendermelo Al capranzi Cosa molto probabile Ma devo farlo perché non so dove andare Sì Mi giuro che sto sudando Non ci posso credere Allora devo andare Là sopra Là sopra Perfetto Madonna Santissima Ci siamo E va già bene E poi sopra Questo qui È una cosa grande Ma guardalo Guardalo come si rastreggia Guardalo Ragazzi voglio condividere con voi Questa mia immensa gioia Per essere riuscita a finire questo livello Con una botta di culo Che probabilmente non avrò mai più Ma chi se ne frega Andiamo avanti L'importante che ce l'ho fatta Perché ci sono dei pesci Che mi sono Sono già incazzati Non abbiamo Non siamo neanche partiti Mio Dio Sono già incazzati Che belli che si Ok Allora vediamo di saltare sto pezzo Prima di Sì Sì Guarda Madonna Madonna Che testa di minchia Siccome ragazzi sono abituato Tipo ad unfair Mario Porca Niente 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 Io continuo a saltare sopra il pesce Madonna Sì Ok No No Ok Ok Mamma mia Mamma mia Che fenomeno Che fenomeno Guardalo lì Qualcosa sto facendo Ragazzi non lo so neanche Probabilmente Metà di quelle Erano piene di spine Ma non importa Non devo correre Devo riuscire a saltare sto punto Non è difficile Non è difficile Non è difficile No no Vedi che c'è una coordinazione Guarda quella di un lombrico Ole Madonna Madonna Ok 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 Io lo sapevo Lo sapevo Ci avrei scommetto Dio mio santo No praticamente ragazzi Fa incazzare che alla fine Ci arrivi abbastanza velocemente Però ha un pa Eh Tua sorella Tricheco Dicevo ragazzi Ci si arriva abbastanza velocemente Però a un passo dalla fine Qualcosa te lo mette nel Nel deretano Per forza Perché Cioè non devi Non devi vincere In poche parole Credo di sì Ole Ole Dopo Dopo 74 Cribbio di morti Ce l'ho fatta Perfetto Unfair Merble Adesso sono Cos'è sto casino Oddio Ragazzi si riempi Eh vabbè Ma la lava non vale Cazzo Ma perché Perché si riempito di lava Cioè già Già non bastava la merda di prima Pure la lava ci dovevano mettere Fantastico Uh Minchia che genio Che genio di sta minchia È una cosa Allora C'è proprio Perfetto E con che buco di culo Mi salvo certe volte Perché non lo so se è normale Cioè sono più fuori che dentro Ma non importa Allora Dove riuscire a capire Fermi un attimo Ok Ok Succa Succa Un cazzo Ragazzi se riesco a finire Sta roba entro oggi Io vi giuro che corro nudo per casa È una roba pazzesca E devo Questo non lo prendo Questo non lo prendo Dove riuscire Allora fermi un attimo Tanto non lo so che mi prendete per il culo Quindi non lo prendo Ok Ok Madonna che pro Madonna che pro Questo non lo prendo Invece dovevo prenderlo Porca troia Allora Vediamo di riuscire ad andare avanti Senza morire Perfetto Perfetto Non mi ricordo più dove sono morto prima Potrei rimorirci E potrei incazzarmi di più Allora Vediamo di riuscire No Ok Quindi devo saltare direttamente Sì Sì Cazzo Sì Che beccente Cazzo Mica ragazzi Non riuscirò mai più Vediamo se riusciamo a completare Sto cazzo di livello Senza riniziare Per forza Eh Lo sapevo Tanto lo sapevo Eh Sì Ok Allora Vediamo di riuscire a fare Sì Sì Tanto non ce la farò mai più A tornare a quel punto di prima Non ce la farò Fottutamente Devi morire La centesima raga Non devo morire Prima di Allora Prima di arrivare a cento Raga ce la devo fare Ce la devo fare Olè Sì Sì Ok 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 Ragazzi Non sono ancora morto Prima di superare le cento Incredibile sta cosa Se riesco Devono farmi una statua Da qualche parte Ma non credo che ce la farò mai Ma ci provo Ok 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 Sì Non devo morire Non devo morire Ok Adesso il dilemma resta Se devo salire su sto cazzo di coso O se devo saltare sul cerchio Credo sul cerchio Il cerchio Più che salto di merda Che se rimbalzo col mio culo Faccio di più Devo finire Sto Schifo Di Gioco Perché Mi viene Diarrea Cronica Sì Sì Ce l'ho fatta Ragazzi è stato È stato pazzesco Non lo farò mai più Atto 2 ragazzi È ancora È abbastanza intuitivo Cioè tipo Sto cose qua Le salto Perfetto Questo non ha pericolo Nemmeno questo Nemmeno questo Nemmeno questo qui Perfetto Questo sì E poi sta musica Mi mette Non lo so Un'ansia pazzesca Perché Sì ma io mi dimentico Che sono un deficiente Ragazzi ma Eh sì certo Devo riuscire No perché veramente Sto musica Se l'ascoltate È inquietante Cioè non lo so Mi mette Cioè è una cosa strana Non lo so Perfetto Allora fin qua ci siamo Dove cazzo devo saltare ora Caso Cioè io vado qui Perfetto Non era il punto giusto Che cazzo devo fare qui Che ne so io Qui Sì Sì Ok Ok È un miracolo Allora È una cosa Allora qui Sì cazzo Ragazzi non mi chiedete Come cazzo ho fatto Non lo so Presumo che io devo andare Qui sotto Perfetto Magari se c'entro il punto La prossima volta È meglio Voglio di finire sto livello Perché mica mi sta uscendo I nervi Dal fianco Non lo so perché Altro che andare in palestra Mica ho trovato il tapirula Perfetto Cazzo Dunque ragazzi Allora devo arrivare Non mi ricordo Allora devo saltare tipo Qui Sì Rimane ragazzi Rimane l'ultima cosa Cioè ovviamente io dovrò saltare Direttamente sull'anello Perché il coso mi ammazza Sicuro Lo sape Io lo sape Ormai Ormai le so ste cose Perché cazzo È normale Cioè sì Anche che si Ci mancava solo quello Guarda E infatti sei stronzo Cioè la fisica di sto gioco Ragazzi La fisica È pazzesco È una cosa che non ho mai Altro che Newton Si sta rivoltando nella tomba Quei povero Cristo È una cosa Allora fatemi capire Che cosa devo fare qui Ok Ok Mica è impossibile Sto lì Sì Cosa puttana Perfetto Guardalo lì Guardalo lì Madonna 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 Sì Ok Adesso come cazzo dovrei fare Sì 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 Ok Allora ragazzi Sì Madonna Madonna È lì su È lì su È lì su Stardy Sì No Guardalo Sì Sì No Come sono morto Come sono Adesso tu mi devi dire Come cazzo sono morto Non mi ha toccato niente Non mi ha toccato niente Oddio Ragà Final zone ragazzi Final zone dopo anni È l'ultimo Questo dovrebbe essere l'ultimo livello Fantastico Lo faccio tutto di fila Senza neanche guardare Non ce la farò mai neanche a partire Effettivamente Sì Ragazzi Voglio provare a farlo In una vita Sì Come se fosse possibile Ok Beh il primo l'ho passato Abbastanza bravo Sì Sì Un cazzo Sì Vabbè che cazzo ci hanno messo Credo di Allora proviamo a vedere Sperfetto Guardalo come si restreggia Come si restreggia Il proiettile di merda Il proiettile Mi cazzo Era arrivato avantissimo In una vita sola Non è possibile Cioè Come cazzo faccio a fare sta parte Non lo so neanche io Come sto facendo Regà Non mi chiedete Non lo so Che cazzo è che spara sti cosi Che già è il casino senza Non Sì Ok Chi è che sta sparando Porca troia Chi Allora vediamo di riuscire a fare Qualcosa di Sì vabbè Ma prima spari di sopra Un po' di sotto Deciditi cazzo Ok Ok Perfetto Ok Adesso hai sparato alto Quindi Ok E vaffanculo Dottor Eggman Lo sapevo che eri tu Ho vinto Vabbè ragazzi 204 morti Fantastico Sono veramente contento Con questo dovrei aver dimostrato Che tutti gli unfair Compreso Mario e Sonic Non li temo E ci sono riusciti ad entrambi E' veramente una soddisfazione personale Regà Io ve lo dico Non ci dormo la notte Per la soddisfazione A giudicare al fatto Che sono uscito di testa Non che avessi dubbi Concludo qui l'episodio Quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Ovviamente ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Anche la pagina di Facebook E come ogni video Tratta nella descrizione Ciao a tutti E noi ci ripetiamo Nel prossimo video Bello ragazzi E noi ci ripetiamo